giuliano giuliano ascoltami bene ho avuto un'idea geniale per la mod di oggi bene allora dimmi tutto non perdiamo tempo se io ti dico io che cosa ti viene in mente lo yogurt no non è una cosa che si mangia ho capito io tipo i rapper no no proviamo un altro approccio se io ti dico una corda ok così ti viene in mente qualcosa mi viene in mente che se trovassi una corda ti legherai in un angolo e me ne andrei a riposarmi giuliano sei sempre solito simpaticone dai ho detto io ho detto una corda un oggetto che gira che che ruota cos'è che gira se lo vuoi sapere l'unica cosa che gira qui sono le mie palle perché mi sono rotto di fare gli indovinelli o di meglio da fare per cui io me ne vado non era così difficile intendevo dire l'ioio salve a tutti blazers e benvenuti in questa nuova mod review della domenica oggi ci troviamo in questo bellissimo paesaggio perché lì dietro state vedendo il set della mod review che ho allestito per questa mod che si chiama ioio mod ok in realtà ioios perché è plurale e comunque ragazzi come capirete già dal nome questa mod aggiunge degli ioio molto semplicemente ne aggiunge 8 e li possiamo trovare nel menu del combat nella creativa e sono questi 8 qui c'è lo ioio rainbow che è solamente presente in creativa e si chiama appunto rainbow io poi abbiamo wooden yoio e facciamo che non leggo più i nomi perché sono degli scioglilingua del cavolo comunque quello di legno quello di pietra quello di ferro quello di diamante quello d'oro quello di sciar quindi con le cesoia nes che sembra pericolosissimo ma in realtà è il più innocuo potremmo dire e poi quello sticky con lo slime ho preparato per voi vari test per testare questi ioio che non sono un semplice giocattolo all'interno di minecraft ma sono delle vere e proprie armi davvero davvero potenti e anche molto utili nel combattimento a distanza e anche per fare alcune cose fuori dal combattimento quindi vi faccio vedere rapidamente che abbiamo lo ioio di legno che ha un valore di peso il valore di peso non so che cosa va a influire sinceramente penso sia la ricaduta del tiro in relazione alla sua gittata quindi quando lanci lo ioio quanto in fretta il tiro tende a mandare lo ioio verso il basso insomma quale arco fa il lancio dopo vedremo con mano si capirà meglio abbiamo la lunghezza che è appunto la gittata dell'arma la durata in cui lo ioio può rimanere diciamo estratto tra virgolette e poi abbiamo una velocità d'attacco e un valore d'attacco che in questo caso è 4 si crafta con 4 pezzi di legno un bastone e una corda che a sua volta si crafta con 8 stringhe in questo modo abbiamo quello di pietra li crafting sono gli stessi in questo caso con la pietra e abbiamo un valore di lunghezza di 7 durata 10 attacco 5 quindi si va ad aumentare così come poi abbiamo il ferro che ha un valore di lunghezza di 8 durata ben 15 e attacco siamo già a 6 ovviamente utilizza nel crafting i lingotti di ferro da quello di ferro poi si crea una sua derivazione vale a dire quello con le shears semplicemente si uniscono delle shears allo ioio che in questo caso ha lo stesso valore di attacco che funziona però verso i player ma diciamo delle particolarità che lo rendono utile come arnese più che come arma per il resto le caratteristiche sono quelle invece abbiamo un netto miglioramento con quello d'oro che ha una lunghezza di ben 11 una durata addirittura di 30 ma un attacco solamente di 4 e si crafta ovviamente con l'oro e lo stesso crafting di prima quello di diamante ovviamente è più forte nell'attacco arriva ad un attacco di 7 così come la spalla in diamante pensate un po il crafting utilizza 4 diamanti può sembrare costoso ma ne vale assolutamente la pena e i valori sono 9 lunghezza e 22 durata quindi più del ferro ma meno dell'oro che però risente in attacco come abbiamo già visto infine abbiamo quello sticky si crea con un diamante uno ioio di diamante e due slime ball e ha delle funzioni che lo rendono inefficace in attacco perché toglie solamente uno quindi è il valore di qualsiasi oggetto di minecraft se picchi un player con un cubo di terra li toglie uno per intenderci ma una durata di 20 una lunghezza di 9 e viene usato come fosse una corda dopo vedremo bene perché ha dei piccoli problemini apparentemente infine ragazzi abbiamo quello rainbow che non può essere craftato perché creative holly ha durata infinita lunghezza ben 24 blocchi danno 9002 non è un errore cioè toglie 9002 non so perché non per dire 9 9 9 9 toglie 9002 quindi shotta praticamente ogni cosa forse ci sono solamente alcuni boss là fuori delle mod più esagerate che magari vengono bisciottati altrimenti shotta qualsiasi cosa quindi andiamo a mettere la prova andiamo a prendere il wooden yoyo come funziona questo coso viene tirato con il tasto destro rimane estratto lo possiamo spostare e quando la sua durata arriva a termine viene in automatico ritratto quindi come vedete ha una sua animazione particolare anche se l'oggetto rimane in mano e semplicemente per danneggiare un nemico basterà andargli appresso e tirare lo yoyo andarlo a prendere ovviamente e subirà il danno indicato in questo caso 4 di danno con una velocità di 1.6 quindi anche lui non un tempo di ricarica ma un tempo dove ogni volta fa danno quindi anche se rimane fisso sul mob non fa danno continuo ogni istante ma fa danno ogni tot perché appunto ha una velocità d'attacco come gli altri attrezzi ed armi quindi ragazzi ho isolato dei creeper per vedere la portata di tutte le armi quindi quest'arma ha una portata di 6 blocchi quindi mettendoci esattamente qui dovremmo essere in grado di colpire quel creeper laggiù invece per poco no perché è all'interno della staccionata e tende a spostarsi un pelino ecco vedete lo colpiamo al pelo in questo modo l'abbiamo spostato leggermente quindi è andato a un altro blocco di distanza e non riuscivo più a prenderlo comunque se tiriamo di nuovo in teoria che succede siamo bloccati sulla staccionata yes ok la staccionata è problematica comunque abbiamo visto che tipo di efficacia ha per esempio quello di pietra ha un efficacia che colpisce a 7 blocchi di distanza quindi uno in più rispetto al legno quindi se noi ci mettiamo esattamente qui dovremmo essere in grado di colpire quel creeper laggiù e infatti siamo riusciti a colpire purtroppo una volta colpito il creeper si muove quindi dobbiamo avanzare di un blocco perché praticamente va nel hitbox del blocco successivo non è più alla nostra portata purtroppo ma andando avanti possiamo notare che appunto questi valori variano un sacco da yo yo a yo yo per esempio quello di ferro colpisce a un blocco in più quindi 8 blocchi di distanza quindi vediamo di colpirlo ok ce l'abbiamo fatta si è allontanato lo continuiamo a colpire e lo arriamo chiaramente più andiamo in su con la qualità degli yo yo più avendo durata e danno d'attacco non serve neanche ritrarre una volta lo yo yo che riesce a finire il mob anche in meno colpi rispetto agli altri quindi è un avanzamento di potenza che agisce su più fronti quindi è esponenziale se vogliamo andiamo ora a prendere invece lo sheer yo yo allora lo sheer yo yo farà male ai creeper probabilmente sì in realtà non ho provato perché non lo trovo neanche interessante ma dovrebbe essere in grado di fare comunque male ha un'animazione molto bella perché vedi anche le cesoi che ruotano attorno all'oggetto già di per sé bella l'animazione ma questo qui particolarmente vedete sta rallentando si è fermato e ora in teoria viene ritratto che figata ma di base non serve niente perché è totalmente identico a quello di ferro quindi a che serve avere questo qui con le sheer serve oltre che per estetica per fare alcune funzioni extra come per esempio ottenere un taglia erba quindi noi possiamo tirarlo andare in giro e tagliare l'erba letteralmente nel nostro prato tra l'altro droppando l'oggetto dell'erba e possiamo anche tagliare fiori ovviamente tagliare qualsiasi cosa e falciare tutto il prato con una comodità bestiale addirittura possiamo tagliare i crop quindi se noi facciamo così come vedete possiamo anche farmare i crop senza particolare sofferenza e problemi ma che cos'è che fanno principalmente le sheer in minecraft fanno altre cose per esempio di solito possono tagliare le foglie sugli alberi lo farà questo yoyo non lo so perché non ho provato ma a quanto pare si e guardate quanto è comodo cioè è una cosa fighissima ragazzi è comodissimo l'esempio lampante è il tosaggio delle pecore quindi qui ho preparato queste pecorelle non per niente andiamo sopra la staccionata e tosiamo tutte le nostre pecore che ovviamente non subiscono danno perché si lasciano tosare quindi sono immuni a questo yoyo ma molto rapidamente riusciamo a tosarle tutte molto più velocemente anche che con una normale cesoia e con un'animazione figa quindi è anche molto più soddisfacente questo yoyo è per me fighissimo probabilmente il più figo della mod voglio sapere anche voi che cosa ne pensate ma non prima di aver finito tutto perché ragazzi ora passiamo allo yoyo durato che ha una lunghezza davvero impressionante e tolto quello rainbow che è solamente creativa è quello con l'influenza più ampia quindi che colpisce a più blocchi di distanza ma facendo poco danno e dura davvero un sacco quindi se noi ci mettiamo qui possiamo colpire il creeper addirittura laggiù quindi andiamo a colpirlo e come vedete lo abbiamo preso lui si è spostato leggermente ma come vedete riusciamo a prenderlo sempre e volevo anche controllare il valore di peso come vedete più andiamo su più sono anche pesanti dove sono gli altri eccoli qui andiamo sempre a pesare un po' di più quello di diamante no in realtà pesa pochissimo la mia teoria è che influissero sull'arco diciamo del tiro ma quanto pare lo yoyo rimane a prescindere a mezz'aria quindi in realtà non influisce in questo non ho ben capito che serve il peso però vabbè non è che ci interessi particolarmente ci interessa arrivare fino in fondo perché ne vedremo delle belle adesso però abbiamo quello di diamante ha un raggio inferiore di due blocchi a quello d'oro ma fa davvero un sacco male quindi il creeper laggiù noi lo possiamo colpire da qui ok non so ok l'abbiamo colpito perfetto e li facciamo davvero un sacco di male dovevo tenere tutte le gabbiette un blocco più vicino perché ogni volta che li colpisco o che si spostano vanno nell'hitbox della staccionata e diventano irraggiungibili perché dovevano essere qui ma invece andavano qui sti balordi di creeper che non vogliono morire nei miei sperimenti quello sticky ragazzi non l'ho ben capito perché in teoria quello che dovrebbe fare è incollarsi a dei blocchi e permetterti di farti trainare quindi di utilizzarlo come una sorta di rampino e poi premendo shift in teoria ok ragazzi ho capito ora come funziona quindi shiftando riusciamo a tirare la corda vedete ecco per esempio questo ha un'area di influenza di 9 blocchi quindi può arrivare fin sopra lì ma non di più se tipo tiro da qui in teoria non ci arriva devo tirare esattamente da sotto e sono 9 blocchi quindi se io shift riesco a tirare la corda e scalare anche una parete potenzialmente quindi è molto figo se lascio lo shift in teoria dovrà essere in grado di scendere oppure semplicemente tasto destro eccoci qui con la sua durata di 20 secondi si comporta bene per le scalate non avevo capito che lo shift servisse per salire perché c'è scritto tieni premuto shift per ritrarre la corda quindi io pensavo intendesse per tirarla indietro in questo modo invece è per ritrarre ritirarla nel senso che tu ti avvicini al bersaglio così ha senso quindi è perfettamente utilizzabile e anche questo caso non fa danno cioè si fa uno di danno è praticamente inutile ma ha una funzione davvero molto figa infine ragazzi andiamo a vedere il rainbow yo-yo uno yo-yo in grado di colpire con una dorata infinita 24 blocchi di distanza e con questo attacco pauroso 24 blocchi sono esattamente da qui alla giù dove ho preparato il totem del weeder quindi ora noi con il pistone se tutto funziona cercheremo di spawnare il weeder per poi shottarlo dalla distanza con questo incredibile yo-yo siete pronti? proviamola? vai! quindi si sposta il pistone e il weeder non si è creato perché è il pistone in mezzo alle palle credo o perché è il weeder stupido perché ok si è creato ora torniamo indietro ragazzi ora si dovrebbe generare ed esplodere cerchiamo di colpirlo ok ora che esploso si è generato purtroppo si sposta proviamo a colpirlo lo stesso dalla distanza che sta già seguendo gli animali colpiamolo tipo da qui ehi ce la facciamo a prenderlo non so se è troppo distante no è perché abbiamo una gittata strana ma in teoria se stringessi bene dovrei essere in grado di prenderlo ora è fermo lì ragazzi proviamo a shottarlo ok l'ho preso e l'ho shottato avete visto è stato un istante tutti gli hp che hanno il weeder sono scomparsi perché questo oggetto toglie 9000 quindi il weeder potrebbe avere anche 10 volte tanto la vita che ha lo shotteremmo comunque è un oggetto davvero op ed è per questo che è presente solamente in creativa per fortuna quindi ragazzi nonostante la potenza op e creativa e cittosa dell'ultimo yo-yo il mio preferito rimane quello delle shears fatemi sapere se siete d'accordo con me se ve ne piace di più un altro la mod è per 1.12.2 quindi la installate normalmente installate forge e la trascinate nella cartella mods trovate il link in descrizione e noi ci salutiamo e ci ritroveremo invece settimana prossima con una nuova mod review quindi un saluto da Eren Blaze ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti